Sono davvero molto contenta di tornare a parlare di fronte alla plenaria del Comitato delle Regioni. Vedo tra l'altro tante facce conosciute, vuol dire che c'è stabilità nel nostro Comitato e vorrei ringraziare il relatore e il Presidente per avermi invitata. Ovviamente il tema che oggi ci preoccupa di più è il tema del futuro della politica di coesione visto che il dibattito è ormai entrato nel vivo e vedrà nei prossimi mesi la presentazione delle prime proposte da parte della Commissione. Ovviamente non serve che io ribadisca qui di fronte a voi quanto importante sia una buona politica di coesione forte ed efficace per il futuro dell'Unione. Se però vogliamo che la politica di coesione sia veramente uno strumento al servizio dei cittadini dobbiamo anche fare in modo che le persone che ci lavorano sui territori guidando le istituzioni locali e regionali siano il più pronte e preparate possibili. Ed è per questo motivo, così come sosteniamo i nostri giovani che durante il loro percorso di studi vanno a studiare in un altro Paese europeo allo stesso modo credo che offrire una simile opportunità agli amministratori locali possa essere un'ulteriore spinta verso una maggiore integrazione europea ma al tempo stesso anche importante proprio per la formazione generale di queste persone che sono chiamate a impegni di grandissima responsabilità e che sempre di più vanno al di là dei loro territori e dei loro Paesi. Ringrazio quindi il collega De Coster che molto si è speso per rilanciare l'Erasmus per gli eletti locali e regionali, abbiamo avuto molti incontri su questo tema che come ricorderete, come lui stesso ha ricordato, lanciamo proprio su iniziativa del Comitato delle Regioni quando nel 2012 ero ancora Presidente. Le ragioni principali per cui allora decidemmo insieme di proporre questo progetto sono oggi le stesse di ieri. Sappiamo che in generale l'Europa ha bisogno di persone più qualificate e preparate e da questa considerazione non possiamo voler escludere proprio noi i politici, politici più preparati, più qualificati e anche lasciatemelo dire più europei, vorrebbero dire scelte e decisioni più consapevoli e lungimiranti e nell'interesse di tutti. Questo è vero per tutti i livelli di governo, è vero dal più levati a quelli più piccoli, ma è ancora più vero per le autorità regionali e locali, che sono quelle più vicine ai cittadini e sulle quali pesa spesso la responsabilità del fare, che è quella più dura, lo sappiamo tutti. Sappiamo che questo è un momento delicato per la politica di coesione, come dicevo prima, ma più in generale per il futuro della nostra Unione. Abbiamo però davanti a noi l'occasione per utilizzare le molte sfide con cui ci stiamo confrontando e per trasformarle in opportunità, con l'obiettivo di fare dell'Europa un posto sempre migliore dove vivere. Poter approfittare di questo progetto, rafforzando la nostra capacità amministrativa e le competenze di chi è chiamato responsabilità di governo, era sicuramente importante in passato, lo è sempre stato, lo è ancora di più oggi che il mondo e insieme anche le risposte che siamo chiamati a dare come politici si complica sempre di più, soprattutto in un momento che inevitabilmente vedrà dei cambiamenti nella politica di coesione, così come in molte altre politiche europee. Credo quindi che un progetto come l'Erasmus di cui discutiamo oggi possa essere uno strumento decisivo nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Esistono già, come sapete, nella programmazione attuale strumenti piuttosto complessi. Abbiamo visto nel corso del tempo l'introduzione ad esempio di strumenti finanziari, talvolta ancora non pienamente compresi. Esiste giustamente una sempre più forte tendenza all'integrazione tra fondi di diversa natura. Sappiamo quanto possa diventare complesso il bilanciamento e il coordinamento tra investimenti pubblici e privati. In tutte queste situazioni dare la possibilità agli eletti locali e regionali di confrontarsi e di imparare dalle controparti europee sarebbe un valore aggiunto davvero per tutta l'Unione. Sono inoltre convinta che due dei principi più importanti della struttura che abbiamo dato all'Unione europea siano la governance multirivello e la gestione condivisa, che sono battaglie storiche del Comitato delle Regioni. Per migliorare l'impatto della politica di coesione in generale per avvicinare i cittadini al progetto europeo, questi due principi devono essere rispettati, così da assicurare la qualità del processo decisionale europeo e una realizzazione concreta dei suoi obiettivi sul territorio. Per tutti questi motivi, ma se ne potrebbero citare molti altri, auspico che il Comitato delle Regioni faccia sentire la sua voce stasera in forte sostegno di questo importante progetto. E sono anche felice di dirvi che sono con voi nel riconoscere l'Erasmus per gli eletti come un importante passo avanti nella direzione di un'ancora più profonda integrazione europea, contribuendo fra le altre cose anche alla formazione di una vera coscienza europea fra gli eletti. Ritengo che a fianco del Comitato anche il Parlamento debba esprimersi e sostenere questo progetto spronando la Commissione a muoversi in tal senso e certamente io nel Parlamento sosterrò questa vostra posizione. Credo infine che questo progetto dovrebbe essere adeguatamente preso in considerazione nella futura programmazione della coesione e degli altri strumenti come uno strumento per rafforzare ancora di più la già forte cooperazione europea fra eletti locali e regionali. Ancora vorrei ringraziarvi molto per avermi invitata, vi faccio i miei migliori auguri per i vostri lavori, per questo tema ma in generale su tutti i vostri lavori futuri e vi confermo ancora una volta che anche nel mio ruolo al Parlamento Europeo nella Commissione Regi potrete trovare in me una voce vicina ai bisogni e alle proposte degli eletti locali e regionali. Grazie e davvero buon lavoro in un momento così difficile per la nostra Unione.